Dopo lo strato coatto avvenuto mercoledì scorso parlo nei coniugi Trigona Genovesi, ospiti di una casa messa a disposizione dal comune di Vittoria, si ritengono vittime di un'ingiustizia. Una quindicenne incinta utilizzata come corriere della droga è uno degli aspetti emersi nell'indagine dei carabinieri di Siracusa che ha smantellato una banda di dieci spacciatori a Catania, arrestati due 23 anni, sequestrati in genti quantitativi di droga. E' iniziata ieri pomeriggio la Due Giorni dedicata al caregiver di persone con demenze, un incontro che si è tenuto all'auditore Muscoridi a Modica, rivolto all'Alzheimer a lungo percorso che coinvolge i malati e le loro famiglie. E' tornata a Modica Claudia Colle per incontrare i piccoli alunni della scuola paritaria Regina Margherita e parlare loro della testimonianza di fede e amore, un momento emozionante di forte crescita personale. Buon pomeriggio e bentrovati a questa nuova edizione di MTG, buon pomeriggio a chi ci segue su Facebook. Lo avete sentito anche voi dai titoli, torniamo a parlare dello sfratto coatto eseguito mercoledì scorso nei confronti della famiglia di Vittoria Trigona. Genovesi, momentaneamente ospiti di una casa messa a disposizione dal Comune, si ritengono vittime di un'ingiustizia, attendono con ansia gli sviluppi del procedimento penale scaturito dalle loro denunce sui reati di usura bancaria e turbativa d'asta. Ce ne parla Carmela Minardo? In questo preciso momento chiediamo di poter rientrare a casa per prenderci, la prima cosa in presenziale, gli effetti personali. Io, ripeto, sono così vestito dal giorno 17 perché non ho avuto modo di prendermi niente. Grazie agli amici abbiamo qualche cosa per poter sopravvivere, ma poi da parte nostra non abbiamo niente. Non sono ancora riusciti ad entrare in possesso degli oggetti personale, i coniugi trigona genovesi. Il loro racconto di quella mattina, quando hanno subito lo sfratto coattivo dell'abitazione di Via Magnani, è ancora vivo nelle loro menti. Tutt'ora ancora non riusciamo a metabolizzare tutta questa situazione. Proviamo a chiudere occhio per dormire la notte, ma non riusciamo. Ogni tanto quando riusciamo a prendere un po' di sono, ci svegliamo di sopra il salto. Se accanto a me non c'è mio marito, mi alzo di scatto perché ho paura che mi combina qualche stupitaggine. Però non è detto che non può succedere perché loro dicevano che si hanno messo in sicurezza con tutta questa protezione, carabinieri, polizia, di tutto e di più. La sicurezza, chiudendo la porta, si è finita. La mia è stata un'esperienza a del poco traumatica. Perché io esco da casa alle cinque e mezzo per andare al lavoro e mi sento, mentre cammino alle cinque di mattina, alle cinque e mezzo, ed è buio, ancora siamo giusti, mi sento aprire uno sportello dopo che passo una macchina, due macchine. E giro istantimamente perché a quell'ora si andrà a aprire uno sportello. Signor Trigone, prego, dico. È vicino a due persone. Siamo dell'apologia, le dobbiamo comunicare qualcosa in commissariato. Però contemporaneamente alle parole le preghiano uno da una parte e uno dall'altra. Come se fosse un pregiudicato qualsiasi, non so, avesse fatto qualcosa talmente grave che dovevo essere preso così. A modi di arrestato, a modi di pregiudicato, mancavano solo le manette, non mi hanno messo solo le manette, basta. Si ritengono vittime di un'ingiustizia e attendono con ansia gli sviluppi del procedimento penale scaturito dalle loro denunce sui reati di usura bancaria e turbativa d'asta. Il 22 febbraio prossimo una scadenza molto attesa. Adesso si trovano in un'abitazione messa a disposizione dal comune di Vittoria per tre mesi. Dopo dovranno trovare una soluzione diversa. Il caso della famiglia Trigona è soltanto uno dei tanti che stanno provocando angoscia, rabbia e protesta. Oggi a Vittoria sono 600 gli sfratti già esecutivi e che attendono solo concreta attuazione. Una quindicenne incinta veniva utilizzata come corriere della droga. È uno degli aspetti emersi dall'indagine dei carabinieri di Siracusa. Gli hanno smantellato una banda che agiva tra Floridia e Solarino. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone responsabili di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Tutti i dettagli nel servizio. Stroncato una rete di spacciatori al Siracusa dai carabinieri che alle prime luci dell'albo hanno eseguito 10 misure cautelari. 4 in carcere e 6 gli arresti domiciliari tra cui una donna. Sono un pregiudicato, un incensurato e 8 con precedenti penali. Per lo più tutti disoccupati. L'aspetto più inquietante è che la banda utilizzava una quindicenne incinta come corriere della droga. La ragazzina è la figlia di uno degli arrestati che si occupava sia di rifornirsi di sostanza stupefacente che di pagare i debiti e i contratti con i fornitori stessi. 4 floridiani sono stati condotti in carcere. I fratelli Paolo Carruba di 34 anni, Già, gli arresti domiciliari e Salvatore di 38, Paolo Carrabino di 50 anni e Sebastiano Iacono di 27. Sono invece stati condotti gli arresti domiciliari i siracusani Carmelo Varano di 38 anni, Gianluca Bordonaro di 30, Christopher Scandurra di 33 anni, Daniele Romano di 38, Daniele Iacono di 34 e Lavolese Luigi Lanzalotta di 20 anni. Nel corso delle attività militari hanno rinvenuto e sequestrato 4.555 grammi di marijuana, 215 di cocaina e 150 grammi di hashish. L'operazione si chiama Abbasito perché nell'eseguire alcuni riscontri i carabinieri hanno sequestrato all'inseputo degli spacciatori la droga, individuando nell'immediatezza il nascondiglio e gli spacciatori rimanevano abbasiti, sorpresi, non trovandola e soprattutto non sapendosi dare una spiegazione dell'ammanco degli ingenti quantitativi di droga. La banda aveva un'organizzazione dove vertici c'erano i quattro condotti in carcere che andavano a Catania a rifornirsi da alcuni soggetti ancora non identificati. La droga non veniva subito pagata, veniva ceduta a credito, rivenduta nelle piazze di Siracusa, Floridia e Solarino a prezzi maggiorati, avvalendosi di diversi fornitori che sono stati posti agli arresti domiciliari. Gli acquirenti erano anche minorenni. L'indagine inferta, un duro colpo allo spaccio di sostanze insuperfacenti e un'importante risposta alla comunità aretusea. E un'altra operazione antidroga è stata a porta da termine dalla squadra mobile di Catania che ha arrestato due 23 anni Andrea Alessandro Fusto e Davide Todaro. Sono stati sequestrati complessivamente 91 kg di marijuana. Sentiamo Catiuscia Carpentieri. 91 kg di droga sono stati sequestrati complessivamente dalla squadra mobile di Catania in due diverse operazioni. A San Giovanni la punta è finito in manette. Davide Todaro, 23 anni, ha ritenuto responsabile di detenzione a fini dispaccio di marijuana. È stato il fiuto dei cani delle unità cinofili a trovare la droga all'interno di due contenitori comunemente utilizzati per contenere cibo per cani. Gli investigatori, infatti, hanno trovato e sequestrato tre involucri in cellofan con all'interno marijuana per un peso di 800 grammi, un barattolo in vetro sempre con lo stesso stupefacente di circa 200 grammi, una bilancia elettronica di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. La squadra mobile di Catania ha poi eseguito un'altra perquisizione sempre in un'abitazione riconducibile a Todaro. Gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato sei involucri in cellofan termosaldati contenente sostanze stupefacenti del tipo marijuana per un peso complessivo di 30 grammi e 4 mila euro in contanti. Todaro è stato associato al carcere di Piazza Lanza. L'altro arresto per droga riguarda Alessandro Andrea Fusto, sempre di 23 anni, trovato in possesso di circa 90 chilogrammi di marijuana. L'operazione è stata eseguita ieri sera, sempre dalla squadra mobile Etnea, all'interno di un garage a tre castagni. La droga era nascosta dentro uno scatolone, sei le confezioni in plastica sotto vuoto di marijuana. Dopo le formalità di irrito a fusto è stato associato presso la casa circondariale di Catania. Rimaniamo a Catania perché c'è ancora la fogna sotto le case di via Minzoni. Sono esasperati gli abitanti, arrabbiati ancora di più dal silenzio istituzionale. Da anni infatti chiedono degli interventi che ad oggi non sono stati compiuti. Ce ne parla Sara Donzuso. Siamo tornati di nuovo in via Don Minzoni a San Giovanni Galermo e la situazione rimane insostenibile. Una puzza di fogna nausea abbonda. Questa fogna esce da qualsiasi tombino all'interno o fuori le case. Il paradosso, c'è una signora che ci ha spiegato questo, che ogni volta che viene tirata l'acqua dentro casa fuoriesce da tutti i tombini che si trovano proprio sotto i balconi, come vi possiamo mostrare anche in queste immagini. Ed ecco l'acqua che esce appena tirata appunto lo sciacquone all'interno di una delle abitazioni. È impossibile vivere in via Don Minzoni. Chiunque arrivi qui o si affaccia dalle case che si trovano appunto in questa via sento un odore nausea abbondo causato dalla fogna che fuoriesce da tutti i tombini e che fuoriesce ormai anche dagli scalini. Inutilizzabili pure i garage. La gente è stanca di vivere una situazione del genere, considerando anche che pago un affitto. Fortunatamente in via Don Minzoni già passa la rete fognaria, il collettore, quindi basta collegare il plesso di via Don Minzoni al collettore per risolvere il problema perché ripeto sono stati fatti tantissimi interventi tamponi che poi alla fine sono anche costosi però il problema si ripresenta di nuovo. Non c'è però in questo momento pare interesse all'amministrazione comunale? Purtroppo da quello che vediamo l'amministrazione nonostante ho investito del problema sia il sindaco sia l'assessore all'ecologia che la direzione sono venute a fare gli espurghi e non hanno concordato poi con SIDRA e ACP l'intervento definitivo. Ancora abbraccio di ferro tra l'amministrazione comunale catanese e gli occupanti della cattedrale di Catania. Ieri un altro incontro è andato a vuoto e intanto è anche intervenuta la questura che ha emesso due avvisi orali nei confronti di due soggetti che hanno dato vita alla protesta. Sono due persone già conosciute alle forze dell'ordine. Si complica sempre di più la vicenda degli occupanti della cattedrale di Catania, uomini e donne senza una fissa dimora che da più di 60 giorni hanno deciso di occupare il Duomo Ettenneo per trovare un riparo. Ma non tutti sono senza una casa, anzi tra di loro c'è chi una casa ce l'ha e ha anche un lavoro. E proprio queste due persone sono quelle che hanno avviato la protesta e hanno convinto gli amici a dar vita a questa ribellione. Sono i più conosciuti del gruppo e sono conosciuti anche alle forze dell'ordine tant'è che ieri la questura di Catania ha emesso due provvedimenti di avviso orale nei confronti dei coniugi. I due hanno avranno una lunga serie di vari precedenti penali, tra quali per entrambi il favoreggiamento personale nei confronti di soggetti responsabili di omicidio volontario. Questi atti sono stati adottati a tutela della sicurezza pubblica e della tranquillità pubblica, ritenuta compromessa dalla condotta di queste persone che in relazione al perdurante stato di occupazione di una parte della cattedrale hanno più volte ostacolato le occasioni di dialogo. Tra queste anche la proposta avanzata all'ufficio minori della questura a una donna affinché trovasse sistemazione insieme ai suoi figli piccoli presso un alloggio individuato dal comune. Dunque nessun dialogo con l'amministrazione, tant'è che ieri il nuovo incontro voluto all'assessore al welfare si è risolto con un nulla di fatto. L'amministrazione ha ribadito le proprie proposte, avviare un percorso incentrato sui buoni casa a 250 euro mensili, siroscini formativi da circa 400 euro al mese e li posi di sistemare tutti in un bed and breakfast. E non si placano le aggressioni al pronto soccorso del Vittorio Emanuele di Catania. Ieri sera l'ennesimo, un altro atto di violenza, danno di un poliziotto e di un metro notte. Ad aggredirli un uomo che è stato arrestato subito dopo, stanco di aspettare le lunghe liste d'attesa. Nuova aggressione al pronto soccorso del Vittorio Emanuele di Catania. Ad avere la peggio un poliziotto e un metronotte che si trovavano in servizio presso il Nosocomio e Tenneo. Sono stati picchiati da un uomo arrestato quasi subito che aveva accompagnato la madre all'ospedale. Stanco della lunga attesa, l'uomo ha iniziato a imbeire contro il personale sanitario, che a sua volta ha allertato le forze di polizia per evitare che la situazione degenerasse. Il poliziotto e il metronotte sono intervenuti per placare gli animi, ma a quel punto l'uomo ha aggredito sia la guardia giurata che il poliziotto. L'uomo si è poi dato alla fuga a bordo del proprio scooter, ma questa fuga non ha avuto gli effetti sperati, tant'è che la polizia lo ha subito rintracciato e fermato. L'arrestato è Alessandro Cannella, pregiudicato già sottoposto alla misura dell'avviso orale. Cannella è accusato di violenza, lesioni e resistenza. L'emergenza prezzi nel settore ortofrutticolo sarà affrontata nel corso di un incontro che esiterà giovedì prossimo a Palermo. L'assessore all'agricoltura ha convocato i sindaci dei comuni della fascia trasformata per giovedì prossimo. L'emergenza prezzi nel settore ortofrutta pro da Palermo. L'assessore regionale all'agricoltura Edi Bandiera ha convocato ufficialmente tutti i sindaci delle città della fascia trasformata per giovedì prossimo. Nelle ultime settimane il crollo dei prezzi sta mettendo in ginocchio i produttori e la crisi rischia di diventare endemica e di causare un'emergenza sociale molto vasta. Affrontarla al pari di un'emergenza nazionale, vista le proporzioni dei lavoratori e delle famiglie coinvolte, è quello che viene chiesto da più parti. Ritengo che intanto dobbiamo andare alle cause della crisi che sono principalmente la concorrenza dei mercati esteri fatta di aziende, di competitor che non hanno le nostre stesse regole. Sono aziende che pagano le retribuzioni a 5 dollari al giorno, noi con 25-30 euro finiamo in galera subito e anche salendo come retribuzioni siamo sempre al di sotto dei contratti e quindi risposti alle problematiche della legge sul caporalato. Abbiamo competitor che non hanno i nostri costi di gestione perché possono utilizzare sostanze attive, residui, cioè concimi anticrittogamici che qua sono vietati. Sono tutta una serie con cause che creano grossi problemi anche perché abbiamo un'offerta che è frammentata in maniera esasperata. Ci sono milioni di aziende che offrono merce e 10-15 che comprano in Europa. Quindi da questo punto di vista, a mio avviso, dobbiamo anche cercare di trovare, non dico non le soluzioni, ma cercare di fronteggiare questo problema. Sicuramente sulle aggregazioni, cercando di aggregare quanto più possibile le aziende. Anche a Ragusa l'agricoltura e la zootecnia sono al collasso. A denunciarlo il consigliere comunale del gruppo Insieme, Lisa Marino, che chiede all'assessore nella disca la convocazione di una task force per affrontare i problemi del comparto e trovare soluzioni concrete che diano respiro ad uno dei settori trainanti dell'economia eblea. Ultima pagina. È iniziato ieri pomeriggio il convegno dedicato al caregiver formale e informale di persone con demenze. Due giorni dedicati all'Alzheimer su come mantenere alta l'attenzione sul lungo percorso che compiono queste persone affette da demenza e i loro familiari. Ieri pomeriggio, dunque, la prima sessione dei lavori. Medici, psicologi, assistenti sociali, tecnici, volontari e familiari stanno partecipando alla due giorni convegnistica sul caregiver formale ed informale di persone con demenza organizzato dall'Aafar, l'associazione familiare Alzheimer Ragusa. L'Alzheimer deve essere considerato una priorità per la salute pubblica perché è alto il rischio che i bisogni delle persone con malattie neurodegenerative in generale e quelli delle persone con demenza nello specifico vengono dimenticati oppure non adeguatamente sostenuti. Dunque, bisogna mantenere alta l'attenzione sul percorso che compiono le persone affette da Alzheimer. La prima sessione dei lavori è stata dedicata alla demenza, diagnosi e clinica. Ad aprire i lavori il professore Marco Trabucchi che ha parlato della storia naturale delle demenze. Ancora non abbiamo i farmaci però abbiamo modalità per avvicinarsi, per accompagnare, proprio come medici e come operatori sanitari, le famiglie e gli ammalati per rendere meno difficile la loro esistenza. E il malato invece ha bisogno di accompagnamento perché dal momento in cui si sente i primi sintomi a quando muore, purtroppo, passano anche 8-10 anni. In questi 8-10 anni lui e la famiglia hanno diritto di essere aiutati a tirare avanti. purtroppo se non c'è la rete poi la famiglia deve andare a cercare qui e là e si disperde, si affatica, si addolora. Sotto questo punto di vista che cosa pensa della realtà ragusana? Conosco poco la realtà ragusana però so che c'è un'associazione di familiari molto vivace e questo è un segnale positivo. Un programma dunque ricco di illustri relatori. All'interno del centro diurno opera quotidianamente un'equipe multidisciplinare è costituita da medici, psicologi, assistenti sociali, tecnici della realizzazione psichiatrica, musicoterapeuti e assistenti operatori sociosanitari. È importante fare rete ed è importante la multidisciplinità perché è importante che ogni figura professionale dia il proprio contributo per ottenere un intervento di successo. Oggi la ricerca sta andando verso non solo la direzione di cercare altre forme di cure farmacologiche ma sta andando soprattutto verso la direzione di validare trattamenti non farmacologici e quindi perché è importante affrontare la demenza andando al di là della malattia, guardando la persona. Per quanto riguarda il convegno di oggi che valenza ha per voi? Allora, questo convegno è stato voluto e ci abbiamo creduto sia l'associazione dei familiari essi e gli operatori in quanto serve per far conoscere, per cercare di sensibilizzare quante più persone, la cittadinanza e aiutare quelle famiglie che poi quello stigma che si ritrova nelle famiglie di solitudine, di abbandono alla malattia diciamo e questi hanno bisogno di aiuto perché non bisogna restare soli. E dunque oggi è l'ultima giornata del convegno dedicato all'Alzheimer giornata conclusiva caratterizzata oltre che da numerosa presenza e interventi anche dalla proiezione del cortometraggio vincitore di decine di premi Lettere a mia figlia che racconta la malattia il suo percorso, le sue origini e il tutto interpretato da Leo Gullotta con la regia di Giuseppe Alessio Nuzzo. Ultimo giorno oggi per il convegno dedicato all'Alzheimer che si è svolto presso l'auditorium Floridi a Modica. La giornata di oggi è stata caratterizzata dalla proiezione del corto Lettere a mia figlia del regista Giuseppe Alessio Nuzzo interpretazione struggente di Leo Gullotta nei panni di un anziano padre che scrive delle lettere alla figlia nel tentativo di spiegare la sua malattia e ciò che sta provando. Film finalista in centinaia di festival in tutto il mondo e vincitore di decine di premi tra cui la menzione speciale ai nastri d'argento e il premio come migliore cortometraggio al Giffoni Film Festival. Leo Gullotta, attore e protagonista ha dichiarato che il corto serve a far entrare chi guarda in questa piccola storia di una malattia terribile. Ho visto nella mia esperienza di ricerca perché prima di intraprendere un lavoro prima di scrivere e di girare un cortometraggio, lungometraggio, un documentario come mi è capitato nella mia carriera cinematografica ho sempre, sempre studiato la malattia quindi ho intrapreso un viaggio sono stato nei centri dedicati all'Alzheimer che purtroppo diciamo quelli più complessi come struttura si trovano solo al nord Italia e ho studiato insieme a degli scienziati e degli studiosi come scrivere come raccontare e da lì è nata l'idea di far raccontare l'Alzheimer da chi è ammalato quindi non solo dal caregiver come avviene solitamente negli altri lavori cinematografici che ci sono sul tema ma far raccontare attraverso le parole di chi è ammalato. Ecco perché proprio l'Alzheimer? L'Alzheimer perché in famiglia mia nonna era ammalata di Alzheimer ho visto mia madre dedicarsi talmente tanto a lei che si è spenta piano piano insieme alla madre quindi si è completamente dedicata al problema all'assistenza perché anche lei ha avuto questo gap di comunicazione non conosceva bene la malattia non conosceva bene anche come deve comportarsi un caregiver che ad un certo momento ha necessità bisogno anche di staccare quindi da quel momento mi è nata l'idea di poter raccontare una storia. È tornata a Modica Claudia Collo per incontrare ancora una volta gli studenti della scuola Regina Margherite per lasciare la propria testimonianza d'amore e di fede. Un'accoglienza molto emozionante per la Collo che poi ha parlato della propria esperienza all'interno della chiesa della Madonna delle Lacrime. Marco Scavino Open Day all'Istituto Regina Margherita di Modica con una testimonial d'eccezione. Claudia Collo è tornata a Modica e anche questa volta ha fatto tappa all'istituto guidato dalle figlie di Maria Ausiliatrice per raggiungere dopo la vicina chiesa della Madonna delle Lacrime dove la Collo ha portato ai tanti presenti la propria testimonianza. È nella relazione con gli altri che scopri la gioia. Infatti quando uno poi si innamora di un bell'uomo se è una donna o di un... se è un uomo di una bella donna insomma se nasce una relazione d'amore forte uno si sente vivo e sente gioia nel cuore e quindi pur con le contraddizioni dell'amore umano che spesso ci fa sentire anche i limiti la fragilità e ci fa sentire anche a volte così smarriti perché non sempre si gestisce l'amore e quindi a volte si sperimenta anche l'incapacità di riuscire a perdonare di riuscire a tenere l'altro vicino a sé di riuscire a essere fedeli. Durante la sua testimonianza ha fatto il riferimento al di là del fatto appunto quando una persona si sente smarrita ha bisogno della verità di trovare la vera verità allora parliamo di quel momento quando lei effettivamente ha trovato la verità. Quando l'ho incontrata la verità ho capito che tutto il resto non aveva più valore perché io non ho voglia di prendermi in giro né di prendere in giro la mia storia la mia esistenza e tantomeno gli altri. Quando ho capito che il centro dell'esistenza è Dio e che se hai una relazione con Dio tutto il resto ha significato e senso e lui sa dare senso anche ai momenti di sofferenza ai momenti di fatica e non perché ce la toglie la fatica o la sofferenza ma ho imparato perché ci sta a fianco perché abbiamo la possibilità di incontrarlo e questo penso che sia il bene più grande come la perla preziosa l'uomo che trova la perla preziosa la seppellisce e vende tutto perché ha trovato il tesoro. Convegni, mostre, seminari documentari fervono i preparativi a Messina e provincia per commemorare il cinquantenario della morte di Salvatore Quasimodo avvenuta il 14 giugno del 1968 il poeta nato a Modica il 20 agosto del 1901 ha trascorso gli anni dell'infanzia in piccoli paesi della Sicilia orientale Gela Cumitini di Cata seguendo il padre che era capo stazione delle ferrovie dello Stato subito dopo il catastrofico terremoto del 1908 è andato a vivere nella città dello Stretto dove Gaetano Quasimodo era stato chiamato per riorganizzare la stazione prima dimora della famiglia come per tanti altri superstiti sono stati i vagoni ferroviari il 10 dicembre 1959 a Stoccolma ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura per programmare l'iniziativa e in sua memoria si è già svolta la prima riunione del comitato scientifico in occasione di San Sebastiano patrono della polizia locale questa mattina una delegazione guidata dalla comandante della polizia locale di Modica Saro Cannizzaro aderito per il terzo anno consecutivo alla campagna raccolta sangue dell'Avis di Modica ormai stiamo istituzionalizzando la donazione straordinaria di sangue ha dichiarato il comandante Cannizzaro che speriamo serva a stimolare la collettività a donare con i responsabili dell'Avis Modica e Saturnino si è discusso della collaborazione tra la polizia locale e l'associazione in previsione di altre azioni di solidarietà aprirà i battenti alle 18 nella chiesa delle capriate del convento delle grazie di Vittoria resterà visitabile al pubblico fino a martedì 23 gennaio la mostra fotografica NIP Non Important Person di Edoardo Croce l'esposizione fotografica fruibile gratuitamente al pubblico grazie alla collaborazione del comune di Vittoria e al patrocino del locale distretto del Lions Club International raccoglie in 80 scatti i viaggi fotografici dell'autore dal 1998 al 2016 il titolo della mostra Not Important Person è anche una chiara indicazione dei soggetti fotografici preferiti da Croce le persone ai margini della società in cui vivono siano esse le società dei paesi in via di sviluppo o quelli dei paesi ricchi europei o degli Stati Uniti Open Day domani dalle 9.30 alle 13 nell'istituto tecnico agrario Quintino Cataudella di Scicli per l'occasione nei locali dell'istituto di Contrada Bon Macchiella gli studenti delle classi terze medie del territorio e le loro famiglie potranno visitare le aule i laboratori e l'azienda agraria dell'istituto e conoscere anche l'offerta formativa per l'anno scolastico 2018-2019 in vista delle prossime iscrizioni alle classi prime durante l'incontro nei laboratori didattici verranno effettuate da parte degli studenti dell'istituto delle esercitazioni pratiche sulla trasformazione dei prodotti lattiero caseari è davvero tutto con questa notizia grazie come sempre per averci seguiti e a tutti voi buon proseguimento e buon fine di settimana grazie a tutti